Saranno ascoltate Isabella e D'Alessia, le amiche e compagne dell'ultimo drammatico viaggio di Martina Rossi a Palma di Mallorca. Dopo il rinvio dello scorso lunedì per sciopero, domani si torna infatti in aula per il processo relativo alla morte della studentessa d'Imperia, precipitata dal sesto piano dell'Hotel Sant'Anna alle Baleari il 3 agosto 2011. Sul banco degli imputati due giovani aretini, Luca e D'Alessandro, accusati di morte in conseguenza di un altro reato, la tentata violenza sessuale. Per la procura Martina infatti sarebbe precipitata cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro. Le amiche della studentessa domani saranno interrogate dalla pubblica accusa sostenuta in aula dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi, dalle difese e infine dalle parti civili. Le due ragazze genovesi al momento della tragedia si trovavano in un'altra stanza assieme a due giovani aretini, i compagni di viaggio dei due imputati, chiamati anche loro a testimoniare dall'accusa. Quest'ultimi però potrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere, in quanto accusati di falsa testimonianza in un altro processo a Genova, procedimento al momento congelato in attesa della conclusione del processo di primo grado ad Arezzo.